La regione toscana ha più che raddoppiato i fondi destinati agli interventi contro l'erosione dei suoi 600 chilometri di coste con uno stanziamento di 9 milioni e 300 mila euro per il biegno 2018-2019. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni a margine del convegno organizzato dalla regione nella tenuta di San Rossore e dedicato alla difesa, al monitoraggio e alla gestione della costa toscana. Questa competenza è tornata alla regione da poco più di due anni, prima era assolta dalle province e quindi il primo adempimento che abbiamo deciso di mettere in campo è stato quello di fare una fotografia unica di tutto il litorale toscano, dando un ordine di priorità ai vari punti che si trovavano e si trovano ancora in emergenza. Da questo ovviamente ne è scaturita una programmazione, un vero e proprio documento operativo nel quale abbiamo ovviamente e puntualmente ogni anno impostato interventi. I monitoraggi della regione hanno evidenziato una buona crescita complessiva del litorale toscano. Sostanzialmente è una situazione buona perché vedendo anche gli ultimi vent'anni la costa toscana, parlo in generale ovviamente, è in accrescimento. Purtroppo però ci sono delle problematiche locali che destano preoccupazione e soprattutto destano problemi ai cittadini e a tutte quelle che sono le attività. Ci sono comunque situazioni molto critiche che necessitano di interventi, 17 dei quali sono già stati progettati o messi a gara o assegnati. Partendo dal nord al sud si può citare per esempio l'intervento su Poveromo che riguarda le province di Massa e Carrara dove di un problema lo stiamo trasformando in una risorsa perché abbiamo previsto di riutilizzare tutte le sabbie intercettate dal porto di Marina Carrara proprio per ripascere queste spiagge anche perché poi il ripascimento in sostanza è il sistema più naturale e anche più efficace per la difesa della costa. Scendendo giù verso sud si passa dalla situazione qui del parco di Migliarino San Rossore per poi arrivare alle problematiche di Marina di Pisa e scendendo giù a sud quindi poi anche ovviamente non voglio tralasciare la questione di Tirrenia e dello Scolmatore dove tra l'altro stanno finendo i lavori della foce armata dello Scolmatore che hanno una finalità idraulica ma hanno anche una ricaduta per quanto riguarda la difesa della costa perché il materiale lagato viene riutilizzato per il ripascimento della costa e quello che non sarà più intercettato dalla foce andrà a favore sia del Calambrone che di Tirrenia per poi scendere giù verso sud e non posso dimenticare gli interventi sul Vada che dovrebbero partire a breve perché sono in corso le gare per poi passare al Golfo di Baratti, anche quello un punto particolare per poi scendere sempre verso sud e San Vincenzo, poi abbiamo la zona dell'Argentario eccetera per i quali sono stati messi in corso o studi o per quelli più fortunati siamo già in una fase più avanzata quindi siamo già nella fase di gara per poi partire con l'affidamento dei lavori Tra le altre aree critiche anche Cecina, Follonica, Orbetello, il Parco dell'Uccellina e alcune piccole spiagge dell'isola d'Elba Sono tanti i punti che abbiamo identificato e sui quali ovviamente mettiamo in campo una progettazione che fra l'altro non è banale perché tiene conto di tutta una serie di variabili insomma che chiaramente una dinamica come quella della costa deve avere fra l'altro abbiamo fatto uno studio sull'arretramento della linea di costa attraverso il nostro consorzio LAMMA con una collaborazione di ARPAT quindi riteniamo di avere anche le sufficienti conoscenze tecniche per poter intervenire con opere che cercano di contrastare nel medio e lungo termine quindi non ripascimenti stagionali ma opere vere e proprie che siano ripascimenti strutturali perché magari impiegano materiali dalla granulometria più apprezzabile o perché si tratta di pennelli o scogliere o manutenzione a opere già realizzate in passato questo ovviamente in un'ottica nella regia complessiva Recentemente la giunta regionale ha snellito le procedure e ha cresciuto il numero dei soggetti abilitati a realizzare piccoli interventi stagionali di ripascimento delle spiagge Abbiamo elaborato alcune linee guida che consentono di fare opere di manutenzione ordinaria piccole manutenzioni e ripascimenti ovviamente limitati senza dover soggiascere alla valutazione ad impatto ambientale quindi con una procedura amministrativa molto snella con un'autorizzazione che viene richiesta al genio civile e stamattina siamo qui a presentarla proprio perché speriamo che ci sia un utilizzo di questo strumento massiccio di modo che il contrasto all'erosione costiera diventi una politica portata insieme avanti dalla regione toscana, dai comuni insieme agli operatori economici Tra le novità più rilevanti l'uso di nuovi termini per definire interventi come la riprofilatura stagionale della spiaggia o per specificarne altri come le operazioni di ripristino dell'arenile e gli spostamenti in ambito portuale L'obiettivo è facilitare tutte quelle operazioni che anno dopo anno gli operatori turistici devono compiere per migliorare le condizioni di utilizzo del demanio marittimo uniformando i comportamenti su tutta la costa toscana Tra gli enti che collaborano al monitoraggio della costa c'è il consorzio LAMMA il laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile Il compito dell'AMMA è quello appunto del monitoraggio, cioè dell'osservazione e anche appunto eventualmente di una previsione Il monitoraggio è fondamentale per avere una conoscenza dell'attuale, della situazione soprattutto anche per capire quali sono i fenomeni in corso e soprattutto capire quali sono stati gli effetti degli interventi realizzati appunto fino ad oggi Diciamo che da questo punto di vista abbiamo fatto un monitoraggio particolare partendo dal satellite che ormai appunto anche se ha un costo arriva a risoluzioni che ci permettono di determinare la linea di costa con un errore dell'ordine di qualche centimetro quindi appunto è una definizione piuttosto precisa La situazione generale appunto su tutta la regione toscana è abbastanza buona è meno peggio appunto di quello che si pensava poi naturalmente abbiamo situazioni particolari che vanno appunto analizzare più in dettaglio e più specifiche però nel complesso la situazione non è male La programmazione degli interventi della regione per combattere l'erosione costiera non si esaurisce con il 2019 In realtà la nostra programmazione traguarda il 2025 immaginiamo di impiegare ancora molti milioni ovviamente ci vorranno le disponibilità ma noi abbiamo immaginato di investire nel triennio qualcosa come 23-25 milioni e poi arrivare ovviamente anche in maniera più massiccia nei prossimi anni chiaramente questo fa il paio con, ripeto, con le disponibilità di bilancio ma anche con la capacità di strutturare una serie di interventi che possano poggiare su un'efficacia di medio-lungo termine la regione toscana non investe per interventi che poi nel corso dell'inverno vengono dispersi ma per dare una risposta il più possibile definitiva a una problematica che purtroppo affligge in maniera importante tanti nostri operatori grazie a tutti Grazie a tutti.